Iniziamo! Nella re! E adesso, di tutti più... ...e, ma risulta che stavendo. Davyanna, Sara, il cognato Giovanni... ...e faccia il conovere! E vai! Wow! Pronti, 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 e adesso, prima di accogliere gli sposi, fatemi vedere le mani su, pronti, perché si parte, pronti, è quello che arriva, ci siamo, si cambia, e adesso, prima di accogliere gli sposi, fatemi vedere le mani su, pronti, e adesso, prima di accogliere gli sposi, e adesso, prima di accogliere gli sposi, fatemi vedere le mani su, pronti, e adesso, prima di accogliere gli sposi, fatemi vedere le mani su.